Il teatro, e lo fa in modo magistrale, soprattutto Bartók, è un modo di esprimere cose che non sono dette, non sono visibili. Ci potrebbe dire che Bartók ha nascosto la cosa e questo nascondimento entra in conflitto con la rivelazione che invece avviene, per forza di cose, nel giudizio universale in cui tutte le colpe saranno rivelate. Quindi siamo nell'intimità di una coppia e poi ci precipitiamo immediatamente nel giudizio universale davanti a tutte le persone, tutti i morti e i viventi del mondo. Questo è il final, questo è il final, questo è il final, il final del mondo. In realtà questa combinazione di questi completamente diversi mondiali ha un equilibrio molto molto diverso nel settore. Questo equilibrio non può essere possibile se prendi un pezzi similiare e li 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 li. Quindi c'è un salto estremo, ma a ben vedere questo giudizio interiore già presente nella tensione sotterranea intestina di Judith. Il risultato è molto attrazione che abbiamo messo in dialogo queste due parole. Io c'è un salto estremo, ma a benzerà desirata interiore! Come si è un salto estremo, ma a benzerà del discusso, ma a benzerà del discusso! Grazie a tutti.